Come vede il contesto delle utility in Italia e qual è il vostro ruolo? Ma è un contesto estremamente particolare perché vede da una parte le utility, quelle tradizionalmente localizzate sul territorio, che oggi fanno molta fatica a tenersi i clienti a bordo anche perché la concorrenza è molto forte e agguerrita. E dall'altra i player energetici come noi che vanno ovviamente a trovare e a identificare nuove strade di business, nuove logiche, anche perché il mondo dell'energia è assolutamente cambiato. Quali sono queste nuove logiche, queste strade di business? Oggi credo che la logica dei servizi su tutti possa essere una logica vincente. Oggi prima di vendere energia elettrica vado a fare evitare al mio cliente gli sprechi e a questo punto vado poi a proporgli dei piani di efficientamento energetico che gli portano sicuramente a ridurre i costi dell'energia e a questo punto a diventare molto più competitivo sul proprio mercato. Efficienza energetica rinnovabili sono quindi i settori del futuro delle utility? Io credo proprio di sì, oltre al fatto che su questo un ruolo credo straordinario lo giocheranno sempre di più le nuove tecnologie. Oggi purtroppo la regolamentazione italiana e la normativa italiana lo impedisce ancora. In altri paesi europei invece è molto più sviluppato. Il nostro gruppo ha effettuato negli ultimi anni una serie di acquisizioni di player e anche di start-up che oggi sviluppano delle innovative tecnologie che sono in grado effettivamente, anche in questo caso, di far abbassare e ridurre i consumi. Perché secondo lei il governo non sta intervenendo su questo aspetto e avete fiducia, immagino, nel futuro comunque del mercato italiano? Ma perché non è una questione molto semplice, in Italia ci sono troppi interessi in questo momento, però io voglio essere ottimista e il nostro gruppo guarda ancora l'Italia con ottimismo, nel senso che è un paese molto grande rispetto a Svizzera, che è il nostro quartiere generale, la nostra nazionalità, però l'Italia ha notevoli sbocchi di business e quindi questo non ce lo dimentichiamo. Potreste collaborare o diciamo con qualche altra impresa italiana, pensare a delle integrazioni, delle fusioni? Beh sì, diciamo che in Italia ci sono anche delle ottime realtà e quindi non escusiamo nulla sui nostri, sulle nostre descrivani avrebbero tanti dossier di realtà interessanti e l'Italia è sicuramente uno dei paesi su cui tenere alta l'attenzione. Forse in Italia quello che manca oggi per chi opera nell'Energia è invece una cultura di marketing, questo in molti utiliti lo vedo, nel senso che non sanno oggi ancora come magari sfruttare una leva che può sicuramente magari fidelizzare il cliente. Detto questo però c'è da dire che sul mercato oggi bisogna saper competere, quindi vedo sicuramente un mercato ancora in consoliditamento dove forse le piccole realtà sono destinate a chiudere, però forse varrà la pena sempre di più invece tenere gli occhi aperti e magari sviluppare delle partnership, questo sì, forse più che acquisizioni magari partnership e non escludo magari delle partnership commerciali.